Come è avvenuto in tutta Italia, anche a Frosinone si è celebrata la festa della Polizia di Stato per il 172esimo anniversario della Fondazione, presenti al Parco Matusa tutte le massime autorità politico-istituzionali del territorio. Attesa per il discorso del questore di Frosinone, provincia Domenico Condello, che di fatto ha aperto l'evento. Momento di celebrazione ma anche di bilancio per nomini della Polizia di Stato, con riferimento ovviamente al territorio della provincia di Frosinone. Il questore ha evidenziato come negli ultimi 12 mesi il territorio sociaro sia stato interessato da fatti gravi e tra questi il recente omicidio di un giovane straniero in pieno centro nel capologo sociaro. Vicenda che ha provocato nella popolazione forte sgomento, incidendo sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Il questore Condello ha sottolineato che nonostante l'autore sia stato individuato e arrestato in brevissimo tempo e che per fortuna non c'è stato uno stato d'emergenza, fatti del genere non vanno sottovalutati ma affrontati e contrastati in modo adeguato. Nel suo discorso il questore ha poi ribadito che il conseguimento della legalità può essere raggiunto solo col coinvolgimento dei cittadini attraverso un'azione sinergica tra associazioni e cittadini e non solo come azione esclusiva degli uomini della Polizia di Stato. In questa ottica ha poi elogiato il prefetto Ernesto Riguori per aver più volte ribadito l'impegno comune sulla sicurezza e sulla compartecipazione di tutte le istituzioni del territorio. Ha specificato che una società va bene e può avviarsi a un domani migliore soltanto se uno fa il proprio dovere. Fare il proprio dovere, come ripeteva spesso Giovanni Falcone, un italiano che ci manca molto, come ha ricordato il questore. Ognuno di noi ha detto che il dottor Condello deve contribuire a contrastare i comportamenti illegali. È un dovere che ci appartiene individualmente e come comunità. Ha ricordato poi che il coraggio, i valori e la passione sono il fulcro della Polizia di Stato all'insegna del motto Sublegge Libertas sotto la legalità e la libertà. Su questi presupposti, ha concluso il suo discorso il questore, si fonda da 172 anni l'impegno di moltissimi poliziotti. La manifestazione è proseguita con la premiazione da parte del prefetto a uomini della Polizia di Stato che si sono contraddistinti nel loro impegno con merito straordinario e con encomio solenne. Poi sul palco è salito il dirigente superiore Franco Gabriele che insieme al figlio ha realizzato l'opera spacciatori di legalità donata alla questura. La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati di encomio da parte del questore e con l'inno eseguito dal baritono Michele Migliori del Conservatorio Licino Refice di Frosinone.